Più di 1300 eventi dalla Biennale di Venezia ad Umbria Jazz, dai classici del Teatro Greco di Siracusa fino al Festival degli Artisti di Strada di Ferrara. Ma Rezzo, ancora una volta, non compare, né il capoluogo né la provincia. Parliamo di Very Bello, Viaggio nella Bellezza, la discussa piattaforma digitale ideata dal Ministero dei Beni Culturali e del Turismo per promuovere gli eventi paralleli ad Expo 2015. La piattaforma, che fin dal suo lancio è stato oggetto di critiche ed ironia su internet per la scelta del nome, la realizzazione poco originale e la mancanza di una versione in inglese, raccoglie gli eventi culturali messi in calendario in tutto lo stivale da maggio ad ottobre 2015. Mostre, spettacoli d'opera e di danza, iniziative per bambini, festival, concerti. Nulla però che rappresenti la terra di Francesco Petrarca, Piero della Francesca e Guido Monaco. Musei, borghi e siti culturali del nostro territorio resteranno dunque fuori dall'obiettivo di Very Bello. Fare in modo che milioni di visitatori allunghino il più possibile il loro viaggio nel nostro paese, come ha spiegato il Ministro Dario Franceschini. Forse la piattaforma non sarà lo strumento ideale, ma noi nel dubbio abbiamo perso in partenza. A rappresentare la Toscana è ovviamente a Firenze, con numerose mostre, tra cui quella dedicata a Gerardo delle Notti presso gli Uffizi, l'esposizione di bronzi di epoca allenistica Palazzo Strozzi e quella allestita al Museo Nazionale del Bargello, dal titolo Il Medioevo in Viaggio. La città del Giglio si aggiudica anche l'arte di Francesco, esposizione dedicata al Santo di Assisi attraverso capolavori d'arte e terre d'Asia dal XIII al XV secolo. Unico evento toscano in programma fuori dai confini fiorentini è quello previsto nella vicina Prato. Si tratta di una mostra a Palazzo Pretorio dedicata allo scultore lituano Jacques Lipchitz.